Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, siamo all'interno di San Pietro. Di solito non si fanno qui le interviste, ma noi abbiamo avuto il beneplacido di qualcuno dall'alto. Ringraziamo sempre Giuseppe che ci aiuta ad Alto Monte, è venuto fino qui a Roma, ci ha portato tantissimi sindaci della Calabria, con chi abbiamo il piacere di parlare. Salve, buongiorno a tutti, sono Marilina Pizzuto, il sindaco di Monterrone di Lecce. Ah, bene, bene, complimenti. Veniamo da Lecce, quindi siamo partiti questa notte alle tre e mezza per poter vedere il nostro Santo Padre. Quindi anche la Puglia qui porta in alto la bandiera? Sempre, altissima. Quindi noi oggi sento anche di ringraziare il Secretario, perché noi facciamo parte di un'associazione chiamata Santissimo Crocifisso, che è Giuseppe Semeraro, che ha permesso appunto a ognuno di noi di portare, di venire qui e quindi far benedire i nostri paesi da Papa Francesco. Quanti siete dalla Puglia? Siamo 5-6. Bene, allora noi ringraziamo, salutiamo tutti coloro che ci seguono da casa, tutti i pugliesi che sono qui sul nostro canale. Saluto tutti e abbiamo chiesto al Santo Padre una benedizione per tutti e che mi auguro il bene del mondo e di tutti quanti noi. Grazie.